ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video e vorrei fare vedere degli acquisti ricco fatto prima di natale che sono diciamo un all ma un piccolissimo non sono tante cose i miei auto regali diciamo dai come li chiamo come auto regali che mi sono fatta prima di natale allora cominciamo subito se lo faccio vedere ho acquistato questo bellissimo profumo le whisky si chiama red eva flor paris che questo qui è da uomo strano ma vero sì perché a me i profumi mi piacciono molto più quelli da uomo che da donna da donna perché alcuni profumi alcuni profumi sono veramente tanto forti e sinceramente non mi piace tanto alcuni ovviamente ci sono anche quelli più delicati che sono molto buoni ma io perché veramente all'inizio non mi era accorto questo qui era da da uomo però l'ho sentito mi è piaciuto e quindi l'ho preso e amen aspettate se ce la faccio aprirlo così ma il profumo proprio è una bomba delicatissimo mi piace veramente tanto poi carina anche la boccetta il packaging come se presenta molto molto bello e quindi questo è uno poi mi sono presa questa pochettina per mettere anche altri trucchi oppure anche quando vado su da roberto scusate eccetera eccetera è molto bella mi piace veramente tanto guardate poi questa brilla tantissimo vedete nel videocamera non rende tanto ma brilla tantissimo ed emanuela la emanuela biffoli con tutte queste roselline qua è bella grande bella spaziosa con tutte rose dietro vabbè così poi qua c'è la zip e se l'aprite dentro è a pua aspettate dentro è a pua e come vedete è veramente veramente tanto spaziosa questa mi è piaciuta tantissimo perché è diversa dalle solite il fatto che c'ha questi micro brillantini diciamo vedete ma brilla tanto 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 dal vivo è meglio ed è stupendissimo poi dopo questi due questini io ho preso anche un altro po di cose di trucchi allora ho preso adesso tiro sulla manica che dopo che li sboccio se quasi fermano ok allora ho preso questo eyeliner qua per questo mi ci sono truccata sabato e vi devo dire che una bomba wine in 24 ore waterproof sabato ieri scusami che mi sono truccata e l'ho provato ed è una roba bellissima mi piace veramente tanto eyeliner pensi il se presenta così non so se vedete sfogato così e ad a questa punta lo faccio vedere poi qui vedete avevo già sbocciati qua ancora mi è rimasto comunque a questa riga qua che me l'ero sbocciati dentro il polso per vedere come erano che se mi gustavano li prendevo ed è a questa riga proprio fino a fino e già l'avevo sbocciati per vedere come erano e che sennò dicono se non mi piace non li prendo e questo qui come eyeliner è proprio una bomba mi piace veramente tanto sempre della wine io della wine c'ho la matita occhi con la nera poi ho preso questo illuminante non l'ho mai comprati illuminanti fatti in questo modo anche se c'è stai fototinta e stick perché non me ci trovavo più di tanto sempre della wine luxury mastery flashing stick illuminating insomma ed è questo bianco argento non so e questo illumina veramente c'è bellissimo cioè guardate io non vi vedo perché c'è un attimo la lampada ok c'è guardate non rende tanto in videocamera ma illumina veramente tanto da quell'effetto luce nel viso stupendo mi piace veramente tanto questo bellissimo mi piace molto è un poco piccata stea stenderlo perché comunque fatto in questo modo ne riesco più di tanto però vedo casomai con pennellino lo prendo un po di prodotto e me lo metto in viso dopo vedrò poi ho comprato quattro rossetti ovviamente sto fan casino scusate ho comprato questi quattro rossetti allora prima di cosa vi faccio vedere questi due questo pure l'ho messo ieri da stupenderrimo un violetto bellissimo questo faccio lo swatch eccolo qua molto bello come colore mi piace veramente tanto bellissimo poi ho preso quest'altro rossetto qui questo è della m bu parena q m cubo non so questo invece sempre della wine sempre che dura 24 ore questo qui è matt questo pure a sun non so prugna pare però è diverso da questo vedete questo è più viola questo qui ma poi anche il rossetto il peggio guardate che carino molto bello così e questo è così infatti vedete diverso da quello sopra su sui viola diciamo preso di torrenta sui viola bellissimo questo anche questo ancora lo devo provare però comunque pare bello poi se vi ricordate l'altra volta pure avevo fatto vedere che avevo preso uno di questi che era più scuro di questo quel viola proprio acceso acceso che avevo fatto vedere non so se lo ricordate e dopo sono andata a prendere questi altri due che io poi volevo fare una bella scorta ma ci sono è raro che ho trovato questo e questo di questo te pensa ne è rimasto uno e questi qui si ce n'erano altri 5 6 sennò erano tutti sui rossi tutti uguali tanti di questi ma tutti su non era proprio un po rosso era un rosso aranciato arancione rosso mischiato arancione non lo so dico che sfiga ne volevo prendere altri poi invece niente che questi ce lo fa la collezione di questi qui matte da lip gloss ma vi ripeto ho trovato a culo questo che è rimasto uno e questo qui che ce n'erano 4 5 vi ripeto sono ancora altri tutti sti rossi aranciati non manco l'ho preso quello uno del resto rosso aranciato perché non è che mi piace a più di tanto allora proviamo questo questo è un lilla come vedete non metto a fuoco a ver questo puntate e questo è così questo eccolo qua adesso a parte non ho applicato manco bene però comunque un bel colore un bel lilla questo te le labbra me sa che spacca poi l'ultima cosa che ho acquistato come ho detto prima e quest'altro rossetto questo pare un uso un rosa comunque un rosa corallo pare assomiglia vediamo un po' ma è più o meno rosso corallo pare rosa corallo porpora non lo so un quanto questo molto bello eccolo qua eccolo qui bellissimo mi piace tanto e niente questi qui sono le otto cose perché sono otto cosine è stato cortissimo questo video perché comunque ho preso pochi acquisti ho preso faccio qualche cosa qualche soldino mi sono comprata questi auto regali prima di natale e ho fatto questi acquistini così diciamo auto regali dai questo piccolino questo piccolissimo all e dato che ieri vi ho fatto vedere il video di regali crociuto natale adesso faccio ho fatto quest'altro video all degli auto regali insomma che mi sono fatta per insomma prima di natale per questo natale non so come lo vogliamo chiamare e niente spero che i miei prodotti ne ho acquistato vi siano piaciuti e se il video vi è piaciuto è stato così mettete un pollice in su sotto al video se volete come sempre commentatemi fatemi sapere il vostro pezzo preferito tra questi acquistini che ho fatto mi raccomando seguitemi su instagram gritanil79 che poi comunque senza chi lo metto sull'infobox ve lo ripeto c'è un'altra immagine della copertina di youtube in alto a sinistra ve lo trovate e c'ho anche facebook perché vuole chiedere l'amicizia e sotto l'infobox invece ho il sito della mia pagina di nell'arte dove metto tutte le mie nell'arte lunghe che faccio le cliente eccetera quindi se volete seguitemi da tutte queste parti qua niente vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao